real montepaone badolato il derby che tutti aspettavano non si è disputata per impraticabilità di campo e quindi chiediamo subito al mister pisano se questo campo era praticabile beh non credo non credo proprio credo che per tutelare i ragazzi soprattutto i ragazzi ma anche un la possibilità di vedere una bella partita credo che sia indispensabile credo che sia stato giusto ovviamente rimandarla aspettando ovviamente che si possa giocare in un campo in condizioni migliori e noi non perché non crediamo mister pisano dice sempre la verità però abbiamo il pallone come fa l'arbitro lo lanciamo vediamo se rimbalza niente è mister pisano anche in questo aveva ragione qual è la scelta tattica di oggi possiamo dire come mister pisano avrebbe schierato i suoi pezzi sulla schiacchiera del fra botto mannesi ma non sicuramente non non dipendeva dal campo perché quello che avevamo fatto in settimana erano delle scelte già stabilite quindi non ci aspettavamo sapevamo che avrebbe piovuto ma pensavamo che onestamente non arrivasse con questa la pioggia con questa forza tanto da impedirci di giocare eravamo pronti per questa gara la rifaremo più avanti non nessuna scelta particolare perché comunque avevamo lavorato in settimana su dei concetti che noi già esprimiamo da tempo e quindi la nostra idea era quella di ricominciare il cammino che avevamo interrotto domenica domenica scorsa mister calabrese è dovuto andare via perché il badolato come il montepaone è andato subito ad allenarsi quindi non è potuto essere qui presente alle interviste però il badolato è l'unica squadra alla quale il montepaone non è mai segnato quindi anche oggi si rimanda l'appuntamento col gol contro il badolato si sperando di di infrangere questo questo tabù diciamo dove l'andata è finita 0 a 0 è stata una bella gara speriamo di essere all'altezza nel recupero ma soprattutto dobbiamo pensare alla partita di domenica prossima a il letto che è un impegno importante è difficile e per tornare ai giocatori mi diceva mister pisano che hanno insistito loro per fare allenamento quindi dal punto di vista dell'allenatore un buon segno se io l'avevo dato libero però i ragazzi hanno voluto allenarsi non lo so forse si sono fatti qualche calco lucio per capire come sarebbe andata la settimana e probabilmente pensano di avere qualche giorno in più libero allenandosi oggi però li ho visti li ho visti carichi per fare un bel allenamento e adesso lo affronteremo con come al solito con la giusta intensità e voglia e allora noi ringraziamo mister pisano è venuto con noi in mezzo al fango perché amiamo sporcarci le scarpe me l'avevo risparmiata prima però ho dovuto cedere alle pressioni di giorgio e allora un saluto ai tanti spettatori di estimo tv da parte di mister pisano un saluto a tutti grazie a tutti grazie gentilissimo ciao